La nostra piattaforma è una piattaforma B2B uomo-donna dove riusciamo a coprire diverse categorie come abbigliamento, scarpe, calzature, cosmesi, profumi, occhiali e casalingo. La piattaforma è stata ideata come un sistema multicanale perché abbiamo la possibilità di collegare in dropshipping fornitori italiani e europei e collegarle in tempo reale ai quattro canali che sono retailer, club, outlet, siti, internet e marketplace. Grazie all'investimento logistico con la GLS riusciremo ad evadere più di 20.000 ordini giornalieri in tutto il mondo. Grazie all'innovazione tecnologica di Italian Distribution, dei partner importanti nel mondo come Zalando, VP, Ozzale, Gilt e tanti altri hanno creduto nel nostro progetto integrandosi in sistema API al fine di poter vendere in tempo reale tutti i prodotti che noi abbiamo integrato dai fornitori. La piattaforma nasce il primo luglio 2020, abbiamo fatto dei grossi investimenti in management, in marketing e in customer service perché abbiamo l'obiettivo di offrire il massimo servizio e la massima garanzia sia ai nostri fornitori che ai nostri clienti. A nome di tutto lo staff Italian Distribution, come amministratore delegato, voglio ringraziare sia i nostri fornitori che i nostri clienti per la fiducia che ci hanno accordato. Grazie a tutti i nostri clienti per la fiducia.